Una bellissima notizia dopo momenti da martedì in poi di comprensibile preoccupazione per tutti con un giorno di anticipo. Infatti Zeman è stato dimesso dalla clinica Pierangeli, ora il tecnico Biancazzurro dovrà osservare qualche giorno di riposo. Domani andrà a salutare la squadra, darà le consuete indicazioni ma non dirigerà la seduta di rifinitura e seguirà la sfida di Ancona in TV. Match in programma domenica alle ore 20.45, diretta in chiaro su Rete 8 con ampio pre-gara a partire dalle 19.45. Indisponibili per Lacani, Brosco e Franchini. Nel cuore della difesa girano Mesic di Pasquale per l'ex Foggia, si tratta del debutto in campionato dalla primo minuto. Questa mattina causa febbre a Cornero, ha saltato la seduta di allenamento. L'attaccante non dovrebbe, condizionale quanto mai di rigore, rischiare il forfè. In mediana conferma per Aloy Tugnob e D'Agasso, che a Catania in mezzo ha giocato meglio di tutti. Esterni bassi Floriani e Milani, davanti Merola, Cuppone e uno tra Cangiano e a Cornero. Ancona con un solo assente, Michael Deramo, 24 anni abruzzese di Archi. Tre stagioni nelle giovanili del Delfino, passato successivamente alla Renato Curia Angolana, ma esploso in D nell'Avezzano di Federico Giampaolo. Nel corso di Siena-Ancona di un anno fa, trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del tendine rotuleo. Dorici reduci da due sconfitte consecutive in casa col Pontedera 1-0 e sul neutro di Vercelli contro il Sestri Levante 3-2 dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Col ritorno di Colavitto, subentrato a Donadel, sette punti nelle prime tre gare, poi quattro nelle successive cinque, con tre K.O. e una sola vittoria nel derby con la Re Canatese. Da sottolineare il successo col Perugia 2-1, unico passo falso finora degli Umbri in campionato. Punto fermo del centrocampo l'ex Lorenzo Paolucci. 27 anni, abruzzese di Tollo, cresciuto nel vivaio Biancazzurro, una presenza in Serie B lanciato da Marco Baroni nella trasferta di Trapani gennaio 2015.